Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Anche oggi ci occuperemo di una scheda d'esame. Mi raccomando, se avete qualche domanda scrivetela nei commenti, così potrò continuare a pubblicare i video e risolvere i vostri dubbi e le vostre paure. Adesso tenetevi pronti perché iniziamo! Domanda numero 1. I tricicli a motore sono veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km orari. La risposta corretta è vero, non dovete confonderli con i ciclomotori che invece possono raggiungere al massimo i 45 km orari. Domanda numero 2. Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio livello con semibarriere. La risposta corretta è assolutamente falso. Questo segnale raffigurato è un segnale di pericolo e indica generalmente fra 150 metri un semaforo con le luci disposte in orizzontale. Ricordatevelo bene. Quiz numero 3. Il segnale raffigurato indica una strada larga 2,30 metri. La risposta corretta è assolutamente falso. Perché? Questo è un segnale di divieto, nello specifico indica il divieto di transito a tutti i veicoli più larghi di 2,30 m. Perciò il numero 2,30 m non indica la larghezza della strada, ma la larghezza massima del vostro veicolo. Quiz numero 4. Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di direzione obbligatoria. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo e nello specifico indica che più avanti tutti sono obbligati a svoltare a sinistra, cioè nella direzione indicata dalla freccia. Quiz numero 5. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci, abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce gialla lampeggiante. La risposta corretta è falsa. Ora, partiamo dalla base. Se esiste il semaforo, il semaforo ha prevalenza sul segnale verticale e quindi sul cartello, ma in questo caso ci indica che il semaforo lampeggia con la luce gialla, cioè non funziona. Allora io devo affidarmi alla segnaletica verticale e quindi a questo segnale. Questo segnale non indica che noi passiamo per primi, non fate questo errore, ma indica invece di dare la precedenza ai veicoli che provengono dal senso contrario. Quindi prima passeranno quelli che provengono dal senso contrario, una volta che non c'è più nessuno, passiamo noi. Quiz numero 6. L'isola di traffico in figura indica una zona dove è possibile la sosta dei veicoli. La risposta corretta è assolutamente falso. L'isola di traffico è una zona vietata al transito dei veicoli. È molto facile capirlo perché è contornata da linee continue e se la linea è continua non la possiamo toccare. Quindi a che cosa serve l'isola di traffico? serve a far capire ai veicoli in che direzione devono andare, non di certo al transito, alla sosta o alla fermata. Quiz numero 7. Gli addetti ai servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dall'uniforme, cioè dalla divisa. La risposta corretta è vero, l'addetto alla polizia stradale ha un uniforme e quindi questo mi facilita il suo riconoscimento. Quiz numero 8. Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta sulla destra. La risposta corretta è assolutamente falso. Questo segnale non indica una piazzola di sosta ma bensì indica una strada senza uscita e quindi se io svolterò a destra poi sarò costretto con il mio veicolo a tornare indietro perché la strada non ha un'uscita. Quiz numero 9. I delineatori raffigurati sono posti per indicare un'area di sosta riservata. La risposta corretta è assolutamente falso, non indicano un'area di sosta, bensì sono segnali complementari e questi sono delineatori di margine. Si trovano ai lati della carreggiata, in questo caso avendo un vetrino trasparente retro riflettente di colore giallo e due pallini gialli si trovano nelle strade o meglio nelle carreggiate a senso unico. Quiz numero 10. Il pannello integrativo raffigurato indica il divieto di transito alle macchine sgombraneve. La risposta corretta è falso, questo non indica assolutamente il divieto di transito alla macchina sgombraneve, bensì se lo troviamo all'interno della carreggiata indica la presenza di una macchina sgombraneve in azione, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Quiz numero 11. Il conducente deve regolare la velocità tenendo conto esclusivamente dei limiti massimi. La risposta corretta è assolutamente falso, la parola esclusivamente ci fa capire che c'è qualcosa che non va, perché quando uno circola all'interno della strada, all'interno della carreggiata, non deve tener conto solo dei limiti massimi, ma bensì di ogni situazione che gli si presenta davanti. Quiz numero 12. La distanza di sicurezza va sempre mantenuta anche prima di iniziare un sorpasso. La risposta corretta è vero, anche prima di iniziare un sorpasso io devo avere un'adeguata distanza di sicurezza, ricordatevelo eh, non posso avvicinarmi e attaccarmi al veicolo che ho davanti eh, questa cosa non si fa. Quiz numero 13. In caso di traffico intenso il conducente deve cambiare ripetutamente corsia di marcia in modo da impegnare sempre quella più libera. La risposta corretta è assolutamente falso. In presenza di tanto traffico non devo continuamente spostarmi e cambiare corsia, così non risolvo niente eh, ricordatevelo. Anzi, creo pericolo per gli altri. Rimango nella mia corsia, porto pazienza e seguo il traffico veicolare. Quiz numero 14. È consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine. Il veicolo L contemporaneamente al veicolo C, poi il veicolo H. La risposta corretta è falso. Adesso fate molta attenzione. Ci sono tre veicoli. Il veicolo che ha la destra libera è il veicolo L perché la sua destra non viene colpito da nessuno e quindi passa per primo. Di conseguenza, visto che è un incrocio dove non c'è segnaletica, si usa la cosiddetta regola dell'orologio, cioè tutti gli altri veicoli passano in senso orario. Quindi L è il primo, C è il secondo ed H è il terzo. Quiz numero 15. Hai vietato il sorpasso se nevica? La risposta corretta è falso. Il sorpasso si può effettuare anche se nevica. L'importante è che controllate benissimo e usate la massima prudenza e attenzione. Quiz numero 16. Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice della strada, l'osservanza di tale divieto è comunque condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici. Ora state attenti e non lasciatevi ingannare. La risposta corretta è falso. Che cosa ci stanno dicendo? Ci dicono se all'interno della strada ci troviamo in una zona in cui la sosta in base al codice della strada è espressamente vietata? Ci posizioneranno lo stesso i cartelli segnaletici? La risposta è no. Facciamo un esempio facile. In curva esiste il divieto di sosta perché manca la visibilità. Non andranno mai a posizionarci un cartello segnaletico che indica il divieto di sosta perché il codice della strada lo esprime già di suo. Quiz numero 17. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente necessario e può protrarsi fino a 24 ore. La risposta corretta è falso. La sosta di emergenza può durare al massimo 3 ore, non 24. Quiz numero 18. Durante la marcia, in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche, ad esempio neve, pioggia o nebbia, è obbligatorio tenere accese le luci di posizione e quelle anabbaglianti. La risposta corretta è vero. In caso di neve, nebbia o pioggia la visibilità cala di molto e quindi io sono obbligato a tenere accese le luci di posizione e le luci anabbaglianti. Quiz numero 19. L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore. Beh, la risposta è un po' scontata, la risposta è vero. L'airbag è un sistema automatico che si gonfia automaticamente quando il veicolo subisce un urto attraverso un sensore. Quiz numero 20. La sospensione della patente può essere disposta quando si circola in autostrada sulla corsia di emergenza in casi non previsti dal codice della strada. La risposta corretta è vero. Uno dei casi di sospensione della patente avviene proprio quando si circola in autostrada sulla corsia di emergenza nei casi non previsti dal codice della strada. Quiz numero 21. Il fenomeno dell'acquaplaning si verifica più facilmente a bassa velocità. La risposta corretta è assolutamente falso. L'acquaplaning, che è il fenomeno che vede il galleggiamento dello pneumatico sulla superficie d'acqua, quindi immaginiamo il pneumatico che galleggia sulla pozzanghera, si verifica molto di meno se la velocità diminuisce. Quindi ricordatevi che è falso. Quiz numero 22. È opportuno per il conducente, che accusa segni di stanchezza, raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare. La risposta corretta è ovviamente vero. Se accusate segni di stanchezza non provate a continuare a guidare, mi raccomando. Fermatevi in una piazzola di sosta e riposate. Quiz numero 23. I massimali della polizza di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, sono gli importi massimi che l'impresa assicuratrice si impegna a pagare in caso di incidente. La risposta corretta è assolutamente vero. La definizione ce lo dà già il quiz. Il massimale, la cifra massima che l'assicurazione ci paga in caso di incidente. Quiz numero 24. In caso di arresto prolungato in galleria per la formazione di una fila di veicoli, è dannoso per la salute azionare il comando del ricircolo dell'aria all'interno del veicolo. La risposta corretta è assolutamente falso, perché se rimango bloccato all'interno di una galleria, il fumo che fuoriesce dalla marmitta, posso respirare? O meglio, la risposta corretta è assolutamente falso, perché se rimango bloccato all'interno della galleria e il fumo che fuoriesce dalla mia marmitta e dalla marmitta degli altri veicoli, rimane intrappolato all'interno della galleria stessa e io rischio di respirarlo. Ma se aziono il tasto di ricircolo dell'aria, utilizzerò sempre l'aria contenuta nel mio abitacolo e quindi eviterò di respirare fumo dannoso per i miei polmoni oppure che mi possa irritare gli occhi. Quiz numero 25. Il volante non può essere regolato in altezza. La risposta corretta è falso. Il volante si può regolare benissimamente in altezza e se avete dei dubbi andate a vedere il video in cui parlo del volante, ve lo spiegherò in maniera perfetta. Quiz numero 26. In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare l'inversione di marcia. La risposta corretta è falso. Non è consentito effettuare l'inversione di marcia perché siamo in un tratto dove manca la visibilità. Quiz numero 27. Il segnale raffigurato indica una corsia riservata ai veicoli al servizio di persone invalide. La risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato indica il divieto di sosta per tutti i veicoli. Sotto però abbiamo delle piccole eccezioni. C'è una P che indica il parcheggio e c'è l'affigurato il disabile. Vuol dire che la sosta, quindi il parcheggio, è consentito solo al disabile. Quiz numero 28. Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio dove non è consentito proseguire diritto. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo e nello specifico indica il preavviso dell'obbligo di svoltare a destra, cioè più avanti ci sarà un incrocio dove saremo obbligati a girare a destra e quindi non si può proseguire diritto. Quiz numero 29. Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a destra. La risposta corretta è falso. Questo segnale, che è un segnale di precedenza, indica un incrocio a T. Ci fa capire, attraverso il disegno della strada principale disegnata in nero più grosso, dove ci troviamo noi. E noi siamo lì, eh? Noi all'incrocio passiamo per primi e da sinistra proviene un'altra strada, perciò non indica una confluenza. Quiz numero 30. La striscia trasversale continua in figura indica che è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra. La risposta corretta è falso e fate molto attenzione. La linea d'arresto indica il punto in cui non ci dobbiamo fermare, ma in presenza del segnale dello stop, in presenza del semaforo, in presenza di un ordine di un vigile, quindi non sempre. Quiz numero 31. Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare i binari se non ci sono altri veicoli in attesa. Aprire le orecchie, eh? La risposta è falsa. Non esiste che attraversiamo il passaggio a livello se la luce è accesa, eh? La luce indica il momento in cui noi dobbiamo restarci dove c'è la linea trasversale di arresto. Non le barriere, eh? Mi raccomando, non fate questa cavolata che purtroppo nella vita reale fanno tante persone. Quiz numero 32. È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni che sono sul percorso tardano a scansarsi? Beh, la risposta è ovviamente vero. Se il pedone tarda a scansarsi non posso ammazzarlo e quindi non devo pensare, muori, non si fa questa cosa, eh? Ma devo fermarmi e farlo passare lo stesso. Quiz numero 33. La distanza di sicurezza è commisurata anche al numero di corsie della strada. La risposta corretta è assolutamente falso. La distanza di sicurezza non dipende dal numero di corsie all'interno della strada, ma bensì da tantissimi altri fattori. Prendiamone alcuni. La velocità, il tipo di strada, ok? Le condizioni del mio veicolo. Ce ne sono tanti, tanti, eh? Perciò mi raccomando, se volete saperne di più, andate a vedere il video dove spiego la distanza di sicurezza. Quiz numero 34. Su una strada a doppio senso di marcia, per svoltare a sinistra, occorre inserirsi nelle corsie che consentono di proseguire in tale direzione. La risposta corretta è vero. Se ci troviamo in una strada a doppio senso di marcia, per svoltare a sinistra, se c'è la possibilità, ci inseriamo nelle corsie che consentono di andare in quella direzione. Quiz numero 35. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo G trasforma, il veicolo transita per primo. Ora, l'incrocio è molto facile. Ci sono quattro veicoli. Il tram passa sicuramente per primo, perché è sulle rotaie. Dopodiché vediamo che ci sono due segnaletiche, il veicolo P al dare la precedenza e il veicolo B anche lui. Che cosa vuol dire? Che l'ordine è questo. Per primo passa il tram perché è sulle rotaie, poi passa il veicolo G perché non ha nessun segnale di dare la precedenza. E poi devo controllare tra il veicolo P e il veicolo B chi passa per primo, cioè chi è la destra libera. In questo caso specifico, il veicolo P passa prima del veicolo B. Quindi l'ordine finale è tram per primo, G per secondo, P per terzo e B per ultimo. Quindi la risposta a questo quiz è assolutamente falsa. Quiz numero 36. Il sorpasso è vietato quando sulla carreggiata è tracciata la linea tratteggiata di mezzeria. La risposta corretta è assolutamente falso. La linea tratteggiata si può sempre superare in condizioni di sicurezza. Quiz numero 37. Il caravan non è considerato un rimorchio perché può essere adibito all'alloggio. La risposta corretta è falso. Il caravan, che noi con termini facili chiamiamo roulotte, è un rimorchio. Ricordatevelo bene. Quiz numero 38. Il casco integrale protegge anche il viso da traumi e lesioni in caso di incidente. La risposta corretta è facilissima. Vero, il casco integrale, quello che protegge tutta la faccia, protegge benissimo il viso. Quiz numero 39. I conducenti dei veicoli a due ruote, avendo una ridotta sagoma frontale, sono più visibili in distanza. La risposta corretta è assolutamente falso. I conducenti dei veicoli a due ruote, essendo più sottili, si vedono con molta più difficoltà e quindi sono meno visibili. Quiz numero 40. Stiamo per terminare la nostra lezione. Chi guida in stato di abrezza alcolica ha tempi di reazione più rapidi. Beh, questa è un po' scontata. La risposta corretta è falso. Chi beve capisce le cose in ritardo e quindi i tempi di reazione sono molto più lenti. Ok ragazzi, il video è terminato. Spero vi sia piaciuto e spero di aver affrontato con voi alcune delle tematiche più importanti. Ora, se avete delle domande, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!